Eccoci, buona domenica, allora per i presidenti di Camera e Senato è fatta, la Camera l'ha spuntata con un ampio margine Laura Boldrini che è l'ex portavoce dell'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite, mentre al Senato come era prevedibile, diciamo con un voto più risicato, siederà sullo scranno più alto Piero Grasso che è l'ex procuratore antimafia. Quindi insomma il centro-sinistra fa il pieno dopo la mossa un po' a sorpresa del segretario del Partito Democratico Bersani. C'è però un elemento molto importante che riguarda soprattutto la votazione in Senato, qual è il fatto, qual è la novità? Che alcuni esponenti, si dice 10-12 senatori dei grillini hanno votato per Grasso che diciamo era in competizione, era al ballottaggio con il presidente uscente del PDL Schifani. Il loro leader Grillo ha tuonato, sembra infuriato, ha detto noi siamo per la trasparenza, così non è stato, insomma pensa all'espulsione. Poi vedremo nelle prossime ore quali saranno le mosse del Movimento 5 Stelle. Quello che c'è da dire è che però c'è un'altra parte politica importante, cioè il PDL che è infuriato per quello che è successo. Si parla addirittura di golpe, si dice che è un'occupazione militare del centro-sinistra e che ovviamente non ci sono le condizioni, visti questi risultati, per affidare un eventuale incarico per formare il nuovo governo a Pierluigi Bersani. Buongiorno a Marco Conti del Messaggero, al di là diciamo di quello che è successo, lo commenteremo ampiamente, ma sono saltati un po' gli schemi, che è successo? Beh, più che saltati gli schemi, diciamo, sono due nomi che Bersani ha fatto l'altro ieri, sorprendendo parte del suo partito e che hanno guardato subito più fuori del palazzo che dentro il palazzo. Il palazzo qua alla fine, compreso il proprio partito, si è adeguato, come si è visto chi ha votato e chi non ha votato, però ha in un certo senso subito i nomi, a cominciare dal PD che è un partito che in altri momenti, in altre situazioni, probabilmente non con tutta, diciamo, questa relativa facilità avrebbe sopportato di vedersi sfilare appunto Franceschini come candidato ormai. O la finocchiaro, no? E la stessa finocchiaro, che oltre ad essere personaggi di un certo peso del Partito Democratico, hanno delle storie dietro di un certo spessore, quindi anche lì si sono andati a toccare degli equilibri. E' qualcosa che, ovviamente, vedremo quanto in seguito avrà questa strategia che nota di Bersani, di quello di andare, di provarci, di andare avanti, riuscirà a reggere e non si scontrerà magari ancora una volta con il palazzo, i numeri e che effettivamente al Senato il PD non ha. Dal canto suo Bersani ha, credo, una diffusa, al di là più di quello che forse si possa cogliere nelle dichiarazioni, scarsa voglia, ovviamente, degli eletti, tutti gli schieramenti, di tornare a votare. Questo è evidente, specialmente nel PD, perché grazie al premio di maggioranza hanno alla Camera un numero strabordente. Sì, ma anche di eletti, per riunirsi devono andare in teatro, per riunirsi tutti assieme. Quindi è difficile questa voglia che potrebbe, alla fine, far trovare sia in partenza, cioè al momento della prima fiducia, sia successivamente al PD, la maggioranza qua e là, ma poi che questo abbia un orizzonte di legislatura, che questo abbia più la possibilità di fare cose stratosferiche. Ma adesso, avendo la presidenza delle due Camere, per Bersani potrebbe essere più difficile ottenere un eventuale mandato dal capo del Consiglio? No, è evidente che è più facile, perché poi si può sempre chiederci che cosa staremmo oggi a dirci se invece di Grasso, il PD, un secondo mandato di Schifani per il PD sicuramente sarebbe stato un freno enorme. Quindi è certo che è più semplice. Ci sono 12 persone in più, 12 senatori in più. C'è un dibattito enorme dentro Al Cinque Stelle, che abbiamo visto che poi il dibattito tanto online non è più. Sì, ieri non c'è stata. No, ma anche la riunione di ieri notte, perché Grillo è intervenuto ieri sera verso 11.30, mezzanotte, ha atteso probabilmente che si esaurisse una nuova riunione che c'è stata nei Cinque Stelle, anche quella non più in diretta streaming, dopodiché ha detto la sua. Però nel Cinque Stelle il problema è serio e si è visto ieri. Uno vale uno, faticano anche a riconoscere il ruolo del capogruppo, faticano a riconoscere anche una sintesi. Sono anche i primi passi, adesso non voglio fare il grillino. Sì, sono ancora i primi passi, al di là del significato politico ovviamente di tutto questo. Buongiorno a Massimiliano Panarari, collaboratore della stampa, ma la sua prima occupazione è quella di docente di comunicazione politica all'Università di Modena in Reggio Emilia. Oggi Ernesto Galli della Loggia, sul Corriere della Sera, a proposito di questo voto, Boldrini-Grasso scrive si può forse dire che le elezioni di Grassi e Boldrini sono segni non tanto di una vittoria dell'antipolitica quanto piuttosto, in senso proprio, della non politica. Quello che segnala Ernesto Galli della Loggia è la mossa del cavallo. Io credo che sia chiaramente una modalità di portare alla presidenza delle Camere due espressioni del fare politica, nel senso che, al di là del nasconderci dietro le parole, in realtà tutto è politica, come si diceva un tempo. Naturalmente sono modalità di fare politica differenti. E anche quella che chiamiamo antipolitica, per certi versi, è un altro modo ancora contestatario, protestatario, di contrasto, ma di fare politica, per l'appunto. Quello che è emerso nella giornata complessa di ieri, molto ricca dal punto di vista del dibattito e anche degli scontri, ancora una volta politici, è stato che, appunto, alla presidenza sono arrivate due figure che difficilmente sarebbero arrivate secondo la dialettica politica normale. In questo mi sembra che si possa cogliere una sorta di egemonia culturale del Movimento 5 Stelle, nel senso che è arrivato davvero come una sorta di UFO all'interno della politica italiana e ha disarticolato gli schemi. E ha costretto poi a queste scelte? Ha costretto... Il Partito Democratico, in questo caso? Ecco, diciamo che ha agevolato o ha portato a fare scelte che probabilmente non sarebbero state nel... Sicuramente non sono nella consuetudine della politica italiana. E allora, da questo punto di vista, due figure così diverse dalla... Due figure, naturalmente, non di apparato, non di establishment, non appartenenti alla dirigenza dei partiti, sono arrivate alla presidenza molto probabilmente perché il Movimento 5 Stelle e soprattutto il cambiamento che si verifica all'interno dell'elettorato del centrosinistra ha potuto trovare in questa mossa del cavallo una risposta ad esigenze che non sarebbero state intercettate normalmente. Secondo la sua interpretazione, insomma, al di là di queste polemiche interne al Movimento 5 Stelle, Grillo ha vinto con questi due nomi, o no? Non Beppe Grillo, ma l'aria dei tempi che in parte Beppe Grillo sta interpretando. Molto probabilmente Beppe Grillo no, la reazione dura che proprio lei ricordava prima, il fatto che si minaccino delle espulsioni dei dissidenti, cosa che è molto contraria all'idea di trasparenza e di dibattito democratico, lo dimostra. Però è vero che in questo paese, con una velocità impressionante che non ci aspettavamo, si stanno producendo dei cambiamenti. Qualcuno maliziosamente oggi scrive o fa intendere, diciamo, dentro le righe, che potrebbe essere anche una reazione volutamente tardiva quella di Grillo e che ci sia, insomma, una sorta di accordo su alcune cose col Partito Democratico, come peraltro Bersani ha tentato, no, in questi giorni, di fare, di trovare un inteso, un dialogo su alcuni punti. Questa è un'interpretazione interessante. Diciamo, la politica italiana, per usare un aggettivo di lungo corso, è molto bizantina. Allora, se anche Beppe Grillo entra all'interno dei bizantinismi, non potremmo stupirci. Certo è che, appunto, quello che sta avvenendo forse spiazza anche gli stessi protagonisti della politica. E Beppe Grillo è un attore davvero molto nuovo rispetto a quello che succede nella complicate, appunto, bizantina politica italiana. Buongiorno all'onorevole Rosa Calibri, il Partito Democratico. Oggi un quotidiano, mi pare il tempo, non vorrei sbagliare perché ne ho sfogliati molti, fa un titolo. Bersani non ha vinto, ma prende tutto. Guardi, io penso che ieri sia stata scritta in questo paese una pagina di bella politica. Penso che le due figure che sono state lette, sia alla Camera che al Senato, e mi permetto di dire, ho letto l'editoriale d'Ernesto Galli della Loggia, che la forza politica a cui appartengo non ha scoperto oggi personalità della società civile o che abbiano svolto ruoli rilevanti nella società e solo oggi si sia inventato improvvisamente due figure da poter candidare alla Camera o al Senato. per spiazzare gli avversari o le altre forze politiche. Anche se questo in parte forse è vero, perché in parte abbiamo spiazzato. Nessuno si aspettava probabilmente che noi andassimo oltre gli apparati, che noi non candidassimo i presidenti dei gruppi uscenti, anche perché le due personalità, Franceschini e Finocchiaro, erano anche quelle sul piano professionale, indiscutibili. Però erano la vecchia politica, diciamo. Ma più che altro non erano la vecchia politica, insomma, nessuno dei due ha, voglio dire, questo forse più ha molte legislature alle spalle, ma insomma Franceschini non ne ha poi così tante. Non era questo, non è la vecchia politica, è la nuova politica. secondo me era un tentativo che il finale di una settimana di colloqui che noi abbiamo fatto in maniera chiara e trasparente... Scusi se la interrompo, peraltro no, per beneficio dei nostri telespettatori, lei mi pare faccia parte di quel gruppo, come sono stati chiamati, di pontieri del partito... Come i giornalisti ci hanno chiamato, i pontieri... Le semplificazioni a volte servono per dialogare con il Movimento 5 Stelle, no? No, è una bella parola, i pontieri. Costruire ponti mi sembra una cosa positiva. Cerpa, non so come definirvi. Prefisco, pontiere, grazie. Abbiamo, devo dire, dialogato con tutti e questa è stata, diciamo, la conclusione, perché presentando due figure di così alto rilievo che venivano appunto da esperienze importanti come la lotta alla mafia, e sicuramente su Piero Grasso questo, è difficile contestarlo da qualunque parte, si guardi la sua storia e nello stesso tempo la Laura Boldrini che per 24 anni ha servito le istituzioni nazionali e internazionali facendo la battaglia per gli ultimi, io l'ho conosciuta quando appunto mi sono occupata in questi ultimi 4 anni di immigrazione in maniera abbastanza intensa, ecco io penso che questo sia il vero significato della pagina di ieri. Tutto il resto mi sembra vecchia politica e tutto il resto mi sembra. Quando dice tutto il resto a che si riferisce? Cioè tutto questo, la vittoria di Grillo, forse è la vittoria della società italiana. Però senza i grillini voi a questi nomi non sareste mai arrivati o no? Forse è la vittoria di democrazia e legalità, forse significa scrivere una pagina di valori su cui forse, e io me lo sarei augurato, quel Parlamento doveva essere un po' diciamo... Sì no, le volevo chiedere, ma senza la leva grillina voi a questi nomi non sareste arrivati, nonostante il rinnovamento che pure c'è stato nel vostro partito in termini di neoparlamentari, diciamo? Io penso che i grillini, come vengono chiamati, diciamo gli esponenti del Movimento 5 Stelle, con il rispetto che si deve ormai a una forza che nel Paese ha raggiunto più di 8 milioni di elettori, sono un'ancora galassia che nessuno di noi conosce, né voi giornalisti né forse noi parlamentari. Non abbiamo avuto modo di conoscerli ancora, di sapere di ognuno di loro storie, capacità, competenze, professionalità. E forse sono anche, diciamo, stati e sono una potenzialità positiva per questo Paese, anche per un cambiamento della politica. Lei parlava con Crimi, con Lombardi, con chi parlava? Con gli attuali capigruppo? Noi abbiamo parlato con una delegazione, eravamo in tre, il senatore Zanda, io e Dalde Zotto. E abbiamo parlato in effetti con 18 deputati e senatori del 5 Stelle. Sì, loro parlano, diciamo, in maniera collettiva, sono espressione di questo metodo collegiale che, devo dire, è anche molto rispettabile. Funziona, secondo lei? Anche noi facciamo assemblee e votiamo in maggioranza. Non è un problema. Magari ci racconta qualche altro dettaglio. Buongiorno all'onorevole Fabrizio Cicchito del PDL. Allora, voi siete furiosi per quello che è successo o no? Insomma, io mi permette di usare un termine giornalistico per semplificare, poi non lo so, ce lo dica lei. Ma in termini furiosi non mi sembra inadeguato. Molto delusi? No, neanche delusi. Però vorrei passare dalla poesia dell'onorevole Calipari alla prosa. Nel senso, cioè, che avendo 150.000 voti in più di maggioranza... Aspetti, scusi, scusi, che credo che ci fosse un problema di microfono. Ecco, lei diceva, vuole passare dalla poesia dell'onorevole Calipari alla prosa, perché avendo 150.000... Se mi fa finire... No, no, lo ripeto perché non si sentiva. L'ho fatto per raggiungolarla. Il PD e la SEL, che è la vera vincitrice della partita, avendo 150.000 voti di maggioranza, hanno preso tutte e due le cariche istituzionali. Il che, altro che non capiamo perché non hanno avuto un consenso più va... E grazie, è un'operazione di arroganza e che poi vediamo se avrà una resa politica. Quindi questo è il primo dato che contrasta con le stesse cose che aveva detto Bersani. Non diciamo è abissale la distanza con le esigenze affermate da Napolitano e così via. Quindi, primo elemento, una operazione nella quale una coalizione che ha soltanto 150.000 voti in più di maggioranza ha conquistato sia la Presidenza della Camera sia la Presidenza del Senato. Secondo dato, il secondo dato è che Monti e i centristi sono scomparsi dalla dialettica politica in una situazione nella quale poi, a un certo punto, Monti ha dato l'impressione di chiedere tutto. Presidente del Consiglio, Presidente del Senato e poi in prospettiva anche Presidenza della Repubblica. E poi sono completamente usciti dal gioco. Terzo elemento, il terzo elemento è costituito dal fatto che il Movimento a 5 Stelle poi al primo impatto con il confronto politico come minimo si è spaccato. Allora, io non so se veniva ipotizzata da qualche giornale se Grillo ha protestato in ritardo e così via. Questo, se fosse così, consentitemi, sarebbe la massima manifestazione della vecchia politica, cioè di un gioco a partita doppia. Io non credo che sia stato così. Credo che loro al primo impatto si sono divisi. E quindi la politica, né quella bella né quella brutta, la politica in quanto tale è penetrata al loro interno e al primo impatto non sono stati capaci di rispondere, né in un modo né nell'altro. Cioè, né votando grasso nel loro complesso e facendo una scelta politica precisa, né non votandolo nel loro complesso. Quindi non c'è dubbio che, come dire, c'è stata per quello che riguarda il Movimento a 5 Stelle una battuta d'arresto, testimoniata dalle divisioni e poi io sono abituato a prendere sul serio le cose che si dicono quello che ha detto Grillo in nottata, che è anche la testimonianza poi del fatto che loro devono sciogliere il nodo del loro modo di essere perché per un verso attaccano tutti sul terreno della trasparenza e della democrazia e per altro verso hanno messo in evidenza dei meccanismi, per un verso assolutamente, diciamo così, autoritari con una leadership di due persone per altro verso hanno messo in moto dei meccanismi anarchici. L'intreccio fra autoritarismo e anarchia porta male. Senta, le volevo chiedere, no, perché le voglio fare un paio di domande. Ultimo punto, quello decisivo. Io credo che quella di Bersani è una vittoria di Pirro, nel senso che non ho una grande capacità con le cifre però se non sbaglio la cifra del Senato è 157-158, cioè per avere la maggioranza. Quindi con 135-137 voti si può votare il Presidente del Senato, non si vota un governo. E allora io mi interrogo sul fatto che sulla base di questo risultato napolitano dovrebbe dar l'incarico a Bersani perché siccome Bersani ha detto che noi gli facciamo schifo e quindi fuori PDL, Lega e così via, fuori il centrodestra. Io poi voglio vederlo. Allora, o il Movimento 5 Stelle si spacca, ma si spacca proprio politicamente e quindi si apre una storia totalmente diversa oppure io li voglio vedere, questi e il Movimento 5 Stelle votare la fiducia e allo stato attuale delle cose l'unica ipotesi di Bersani è quella di aver, abbiamo visto, al di là della poesia, questo cambio di nomi è avvenuto per inseguire il Movimento 5 Stelle in una situazione disperata in cui quelli dicevano che non votavano gli esponenti tradizionali del Partito Democratico. Quindi la ragione per cui sono usciti queste due candidature sono state l'inseguimento che al Senato è riuscito in questo senso, ma un conto è sfrangiare un Movimento e prenderne 10 voti, 12 voti sull'elezione del Presidente del Senato. Ben altro conto è fare un governo. La mia sensazione è che con questo risultato le elezioni anticipate hanno fatto un grande passo in mano. Un passo avanti le dice. Va bene, allora poi un altro paio di domande molto rapide, le faccio subito dopo la pubblicità. Allora, Nero Cicchitto, se mi risponde brevemente perché le voglio fare altre due domande. Intanto i grillini, chiamiamoli dissidenti, mi pare sei di loro fossero siciliani, hanno detto Schifani è invotabile, se torniamo in Sicilia, insomma, ce ne dicono di tutti i colori. E quindi, diciamo, si sono schierati loro e altri sei, altri quattro, non sappiamo, per Grasso. E là è più complessa, nel senso che loro sono entrati nel sistema di potere di Crocetta e del Presidente della Regione. Cioè, loro là in Sicilia partecipano al governo regionale, insomma. Sì. E poi invece lei faceva riferimento a Monti, per esempio oggi Libero dice che Monti vi aveva fatto una proposta indecente, Palazzo Chigi a Bersani, Quirinale per sé e il Senato al PDL immagino con Schifani. Era questa la proposta? Ma guardi, non è che sia venuto un notaio con un testo scritto, però è circolata questa ipotesi, francamente le do scarso credito perché sarebbe una, come dire, un oltraggio all'intelligenza di Monti, quella di venire a proporre ad una forza politica, quale la nostra, di non partire, perché non era una proposta di governo, l'ipotesi era che c'era un governo Bersani-Monti rispetto al quale noi non avremmo dovuto votare la fiducia, però non so che avremmo dovuto fare, andare a passeggiare per strada mentre questo governo si presentava in Parlamento. In cambio, lui avrebbe votato per la nostra presidenza del Senato, ma è una delle tante ipotesi che è circolata, non voglio appiccicarla a Monti in modo rigido, ripeto, perché se l'avesse fatta davvero, questo significherebbe una totale insipienza, insomma. Però qualcuno dice che si erano parlati con Berlusconi e Berlusconi, dopo questa proposta è rimasto sconcertato. Non mi risulta che ci sia stato nessun colloquio diretto, né personale né telefonico, sono arrivati messaggi di vario tipo, uno era questo, ma lo prendo, diciamo così, come un'esercitazione estemporanea. Senta, con tutte le dovute cautele, perché questi fatti da raccontare sono sempre, come dire, da maneggiare con cura, queste contestazioni a Berlusconi e al Senato, lei come le legge? Che cosa dice? Ci stavano dieci persone che stavano fuori dal Senato. Sì, fuori dal Senato. Nella normalità della cosa, ognuno di noi va in giro e c'hai chi ti dice che è d'accordo e chi cerca di tirarti un pomodoro in testa. Diciamo così, è nella normalità della vita politica. Allora, buongiorno Ignazio Ingrao, che di panorama, diciamo come si dice in gergo, è il vaticanista, insomma si intende di cose della Chiesa e non solo. Io volevo coinvolgerlo, ovviamente dando le sue riflessioni su quello che è successo ieri alla Camera e al Senato, però parto da quanto scrive Iena oggi sulla stampa, che è molto significativo. La sinistra in vantaggio per 3 a 0, Boldrini, Grasso e il Papa. Questa è la sintesi. Ma oddio, io credo che ci sia un certo nervosismo dei cattolici, sia i cattolici con Monti, sia anche per certi versi i cattolici con Bersani, nel senso che comunque Bersani, come è stato accennato, ha buttato nel cestino un percorso, una storia politica che riguardava diverse anime all'interno del suo partito per scegliere Boldrini e Grasso, appunto completamente fuori dai giochi di quella storia. Questo forse può rappresentare anche un certo nervosismo che magari mal celato rispetto alla plomb con cui Franceschini ha fatto il suo passo indietro. Sì, questo l'abbraccio, peraltro, di Franceschini subito dopo con Laura Boldrini. Sull'altro fronte di Monti, il fatto che Monti abbia sacrificato Dell'Ai alle sue ambizioni personali, perché questo è il fatto, credo che accresca ulteriormente la difficoltà e il nervosismo dei cattolici anche con scelta civica. Poi se è vero, non so se... Si parla di una spaccatura con i Montezemoliani, insomma, sono discorsi. Assolutamente, tra Riccardi e Montezemoliani, anche perché lì si fa, come dire, si addebita poi a Montezemolo, poi non so, un impegno magari che non è stato quello che Riccardi e gli altri si aspettavano da Italia Futura. Ma non solo, insomma, nel senso che poi sia anche vero che Monti toglierà il suo nome dal nome del gruppo alla Camera, non so se questo è semplicemente un'ipotesi, una possibilità concreta per lasciarsi le mani libere, questo ulteriormente li nervosisce. Sul fronte del Papa, in questo senso, ma questo... No, aspetti, le cito un'altra frase che è divertente. Camellini oggi commenta appunto l'elezione dei presidenti di Camera del Senato, a un certo punto scrive che c'è stato l'effetto Francesco sul conclave della Repubblica. Papa Francesco, in questo caso. Ma certamente Francesco, con questa sua indicazione molto chiara di stare con i poveri, di una chiesa in cammino che elimina tante sovrastrutture, questo l'ha dato molto... però se ne accorgeranno in realtà poi chi è Francesco, realmente il suo rigore morale su alcuni temi che invece sono cari magari ad alcuni cattolici che sono diciamo magari nella sinistra, nel senso che pensare di aspettarsi da questo Papa delle aperture, non so, sulla contraccezione piuttosto che sull'eutanasia o ancora più sui matrimoni gay e sulle coppie di fatto, significa non aver capito, Francesco non è un cardinale Martini che parla spagnolo, Francesco è un gesuita rigorosissimo che certo ha un'idea di chiesa che è molto vicina al concilio, ma sui temi morali è anche un duro veramente, insomma. Sì, però lei sa che in questi giorni diciamo anche magari azzardando un po' di paragoni, molti hanno detto, hanno scritto, insomma la chiesa grazie anche a duemila anni di storia ha saputo dare un fortissimo segnale di discontinuità rispetto agli scandali e ai problemi che ci sono e diciamo lui è l'uomo ideale per riformare la chiesa, diciamo ha tirato fuori dal cilindro i cardinali, forse l'uomo giusto, cosa che i partiti e la politica non stavano, non avevano fatto fino a quel momento, questo è un po' il parallelo che si è fatto. Questo è verissimo perché io dico che è stato un atto di grandissimo coraggio di votare Francesco che è stato votato con un numero di voti largamente superiore alla maggioranza prevista dei 77 e questo è stato il segno, cioè i cardinali, anche una parte consistente di quelli di Curia, si sono affidati a un uomo che sanno di non poter controllare, cioè che andrà avanti per la sua strada nella riforma veramente con un gesto di coraggio, non ha vinto diciamo la politica politicante nel conclave, gli accordi. Francesco non è un uomo che ha fatto accordi, sono rimasti al passo altri e è andato avanti Francesco. Poi magari l'approfondiremo dopo, vedremo cosa significa per la CEI, per la conferenza episcopale italiana, come si è trovata spiazzata dalla elezione di Francesco. Sì, abbiamo fatto un comunicato per scuola, mi pare, questa gaffa che era successa. Ma quella gaffa non è solo una mancanza di professionalità, è l'indice del fatto che Bagnasco e il suo tipo... Però aspetti, spieghiamolo perché magari qualcuno si perde un passaggio, cioè che cosa è successo? È successo che il giorno dell'elezione del Papa, l'ufficio stampa della conferenza episcopale italiana, ha fatto un comunicato che era accompagnato da una mail e che diceva siamo felici per l'elezione del cardinale Scola a Pontecice. E quindi è che è stato un errore clamoroso, ma che tradiva le aspettative vere, e cioè il fatto soprattutto che Bagnasco e un piccolo gruppo di cardinali italiani, Betorica, Farra, eccetera, erano in qualche modo completamente tagliati fuori dalle trattative, cioè stavano lavorando su un'ipotesi che ormai non era più reale già quando si stava entrando in conclave, perché le trattative del pre-conclave segno che sono stati tagliati veramente fuori e questo gap e questa distanza che c'è tra Francesco e il vertice della CEI non sarà facile recuperarla rapidamente nelle prossime settimane. Mi permette ancora un paracolo azzardato? Questa scelta è stata a sorpresa azzardata un po' come ha fatto Bersani con Boldrini e Grasso? No, l'abbiamo vista nascere progressivamente nei giorni precedenti. È stato un conclave atlantico, cioè il primo conclave in cui gli americani, i nord e i sud uniti hanno contato e hanno contato veramente, ma anche i tedeschi e i belgi che otto anni fa avevano sostenuto Bergoglio e quindi la realtà è stata questa, che poi si è entrati già con una rete, un consenso su Bergoglio fortissimo. Però ecco, no, appunto volevo dire, perché noi ci occupiamo di politica, siamo assai sorpresi da, appunto, come ho detto prima, le mosse di Bersani, voi non è che Bergoglio... Non era tra i papà, siccome dice che era un percorso... Ma magari in grado l'aveva previsto. Però diciamo, i percorsi e le modalità di discussione all'interno del Collegio Cardinalizio non sono quelli del Palazzo, nel senso che lì anzi si tende proprio a tenere, diciamo, il segreto sulle opzioni vere e anzi a sviare gli altri. Il fatto che ci fosse, diciamo, la possibilità concreta di un Papa americano, però americano nel senso delle Americhe, questo era, diciamo, assolutamente sul tavolo. Se poi, diciamo, uno schieramento anche di stampa e di comunicazione molto italiano voleva leggere, diciamo, sovra rappresentare le opportunità, le possibilità di scuola, anche questo è accaduto. Poi, certo, lì la capacità di essere molto rapidi anche, perché in otto giorni di preconcave e in un giorno di conclave c'è una rapidità di decisione che non sono i tempi del Palazzo, insomma. E allora, sempre continuando un po' su questo doppio binario, chiedo a Massimiliano Panarari, alla luce, diciamo, dell'elezione, a sorpresa o meno, di Papa Francesco, ieri Grasso ha detto il Senato deve diventare una casa di vetro, la Boldrini, dal canto suo, ha detto Montecitorio diventerà la casa della buona politica e il Papa ieri ha detto una chiesa povera per i poveri. Si può fare qualche parallelismo? Che cos'è tutto questo per un paese come l'Italia? Sì, diciamo, chi ragiona sui palazzi apostolici è abituato a vedere trasformazioni millenarie. Noi potremmo cercare di sintetizzare così. C'è uno spirito dei tempi, in qualche modo, ci sono delle trasformazioni. Occupandoci di politica siamo abituati a caratterizzare, a scadenzare Prima Repubblica, Seconda Repubblica, a volte in maniera, diciamo, imprecisa dal punto di vista istituzionale, appunto, non così corretta. Ma non c'è dubbio che se non siamo alla vigilia della Terza Repubblica, perché non siamo alla vigilia di cambiamenti istituzionali, quello che accade è che c'è una profonda trasformazione all'interno dell'elettorato, nell'opinione pubblica, della società, che ha messo in crisi, in parte, le dirigenze dei partiti e a cui le dirigenze dei partiti, di alcuni partiti, nel caso del Partito Democratico, questo è evidente, reagiscono, io direi, molto positivamente, nel senso di cercare di intercettare questi segnali e di procedere con delle proposte. Naturalmente si possono avere su Laura Boldrini e Piero Grasso giudizi diversi dal punto di vista dello schieramento politico, ma è indubbio che si tratta di due figure di altissimo profilo, che nelle rispettive professioni hanno svolto funzioni fondamentali, sono molto rispettate, nel caso di Laura Boldrini, per esempio, possiamo anche dire che siamo in presenza di una cosa che nella politica italiana non avviene così spesso, cioè la valorizzazione di chi ha svolto incarichi molto importanti all'interno delle istituzioni internazionali e anche questo è un segno dei tempi per un paese che si dichiara sempre europeista, ma nei fatti lo è in maniera molto più difficile. Quello che io credo è che nessuno di noi ha la sfera di cristallo, naturalmente, e soprattutto per chi fa politica sarà importantissimo identificare i cambiamenti, ma sta avvenendo un mutamento, un mutamento che prima era carsico, cioè era sotterraneo, e che invece adesso sta diventando molto evidente, che affiora con grande forza. È un mutamento generale, è un mutamento che è stato anticipato dall'economia, noi diciamo con uno slogan, con una formula molto consueta, che da molto tempo ha la società italiana, è in una fase post-fordista, cioè in una fase in cui è cambiata completamente l'organizzazione economica, quelli che definiamo i precari, i lavoratori flessibili, nessuna espressione bene. Tutto questo naturalmente ha anche delle conseguenze elettorali, conseguenze elettorali che sono state evidenti nel caso di un movimento 5 Stelle, che è un movimento post-ideologico, con una componente carismatica molto forte, con dei tratti anche autoritari, diceva prima l'onorevole Cicchitto, sì è decisamente così, e quindi è una sorta di grande magma, di cui vedremo soprattutto nel confronto con le istituzioni, nel lavoro concreto, nella lunga marcia all'interno delle istituzioni, cosa accadrà, se scoppierà, quali tensioni, come è evidente, stanno già affiorando, ma è stato dal punto di vista elettorale capace di intercettare un pezzo di società italiana che non aveva rappresentanza. Io credo che con le elezioni dei due presidenti delle Camere di ieri si sia cercato di dare una risposta a quel pezzo di società, e nel caso naturalmente non facendo appunto paragoni con un'agenzia bimillenaria come la Chiesa, che ha una tradizione di gestione di se stessa assolutamente impressionante e straordinaria, non c'è dubbio che una parte quantomeno dei cardinali ha intercettato l'aria dei tempi che sentiva e ha individuato nella figura del cardinale Bergoglio una risposta significativa. E non è un caso per l'appunto, perché in termini di comunicazione la Chiesa Cattolica non ha da imparare da nessuno, naturalmente. Tra l'altro ha incontrato i giornalisti, ieri il Papa. Adesso ci torniamo, voglio ricoinvolgere Cicchitto e non ero Caliperi. Al di là delle contrapposizioni politiche, per esempio ieri mi pare durante il discorso, insomma durante il voto, quando si è capito che la Bollina ce l'avrebbe fatta, voi non avete mi pare applaudito, insomma siete stati molto freddi come atteggiamento. Ma che cosa, dicevo, al di là delle contrapposizioni, insomma cercando di far leva sulla sua esperienza politica, ma sulla sua schiettezza, ma che cosa non le piace della Boldrini e di Grasso? Quali sono i punti più critici per voi? In primo luogo, io prescindo dalle persone, nel senso poi che quando uno diventa presidente della Camera e del Senato c'è un rispetto istituzionale. Però, primo, una contestazione totale, radicale, di una scelta che ha comportato il fatto che, ridiscendo nuovamente dalla poesia alla prosa, che una coalizione che non ha vinto le elezioni, che ha 150 mila voti in più, prende sia la Camera che il Senato. Primo dato. Secondo dato, poi, io distinguerei nettamente le persone, nel senso cioè che con tutto il rispetto il terzomondismo, diciamo così, estremista di cui la Boldrini è portatrice storicamente e così via, io non lo condivido, noi non lo condividiamo. Ma nel discorso c'è stata una cosa che lei ha detto su questa? Sono d'accordo o no? Nel discorso della Boldrini. La cosa sui detenuti. Ma era un discorso che sommava insieme 10 mila elementi di protesta che senza una proposta, quindi rispettabilissimo per chiarità, ma una posizione assolutamente estrema. E quindi... In cui non vi riconoscete. E quindi, siccome la dialettica politica è normale e, diciamo così, c'erano quindi due contestazioni che si sommavano. Voglio anche aggiungere un altro dato, perché a me i frittimisti non mi convincono mai. Nel senso cioè che quello che è avvenuto nella Chiesa ha una logica, poi andatevi a vedere un attimo i testi di questo Papa. Eh, ma lo diceva in qualche modo. Quello che, per esempio, lui ha scritto, non lo ridico qua, ma quello che lui ha scritto sulle donne, sulla funzione femminile rispetto alla politica e così via, eccetera, se uno di noi dicesse una cosa del genere verrebbe impiccato. Quindi, attenzione, perché lo condivide? No, non le condivido. Dico però che balletta, che va... Ci offriva uno spunto, diciamo. Che l'operazione... Che, insomma, ogni cosa ha la sua specificità. Mettere assieme, fare un fritto misto, per cui mettiamo assieme questo nuovo Papa, la Boldrini e il nuovo Presidente del Senato, secondo me, è una... C'è l'espirito dei tempi di cui parlava Panarari? Qui c'è un... Ci stanno due problemi, e concludo. Due problemi di fondo. Un problema generale, e cioè che stiamo vivendo tutti le conseguenze di una crisi economica tragica e... E' valoriale anche tragica, E' valoriale oltre che economica? Anche valoriale. Perché poi, quando arrivi a questi livelli di recessione e di crisi, come dire, vai nel profondo di una esplosione. E secondo me, per esempio, anche il voto del Movimento 5 Stelle è l'espressione di un eccesso di linea politica recessiva che ha portato a esplodere la società italiana. E per quello che riguarda la Chiesa, la Chiesa, e qui la lettura sul riferimento ai poveri, si inserisce, diciamo così, in questo contesto, e poi, per quello che li riguardava, avevano un tragico problema loro. Nel senso, che la vicenda della pedofilia, la vicenda di Wikileaks, e così via, rischiava di togliere alla Chiesa la capacità di magistero etico. e quindi doveva... Però la Chiesa stava perdendo credibilità come la politica l'aveva persa. Questo è il parallelismo, forse si può fare. Nella rispettiva specificità abbiamo tutti questo problema. Però io mi rifiuto nel modo più assoluto di... No, no, questo è chiaro. Però non mi ha preso su Grasso. Grasso non è un vostro nemico? Il neopresidente del Senato? Io no, no. Allora, Grasso non lo considero né un amico né un nemico. Lo rispetto. Ricordo, glielo ricordo polemicamente oggi il fatto che lui ha dato una valutazione molto positiva della politica antimafia del governo Berlusconi. Quindi, voglio dire, è singolare che si metta a Presidente del Senato senza una precedente esperienza politica perché poi consentitemi fare anche il Presidente della Camera o il Presidente del Senato chiedo scusa ma richiede livelli di professionalità e di conoscenza dei meccanismi sono due persone e due professionisti che impareranno. Molto elevati. Comunque, io non lo considero dal punto di vista dell'antimafia né un amico né un nemico perché poi lui ha avuto sul terreno dell'antimafia anche una linea che è stata diversa dall'oltransismo dell'antimafia. Insomma, non è quella toga rossa su cui buona Berlusconi. Quindi, non è su questo. Si dà un messaggio discutibile leggendolo alla prima esperienza Presidente del Senato però, voglio dire, lo considero nella sua complessità come una persona che ha svolto quel ruolo con notevole senso di equilibrio. Quindi, non è questa la ragione politica per cui noi abbiamo avanzato un'altra candidatura e contestiamo radicalmente questo tipo di soluzione. Ecco. No, io potevo andare se deve aggiungere qualcosa con il conto io potevo andare da cosa dire. volevo soltanto dire se state già applicando il metodo nuovo del Papa contestualizzandole quelle trasi che sono state riportate sulle donne politiche. certo. Grazie. Che volevo dire? No, volevo dire soltanto una cosa adesso è vero onore e cicchito che confondere il sacro col profano però lo spirito non è la faccenda del sacro del profano. No, va bene, lo spirito dei tempi che effettivamente il PDL forse ha mancato ieri visto anche quando voi siete andati al Senato nuovamente con il nome di Schifani dopo che dal cilindro di Bersani erano uscite questa accoppiata. Ora, è evidente perché si è visto la mattina non avevano il nome probabilmente quindi hanno presentato il nome di Luscent di Luscent si era già parlato non è che era quella la candidatura che dice se avessero trovato un nome diverso forse la vicenda sarebbe parlata diversamente. Il problema il grosso imbarazzo dei grillini che si è visto nelle assemblee pomeridiane e notturne non era solo dobbiamo dar grasso perché è il migliore per noi eccetera quanto il fatto che l'alternativa era Schifani che ora giusto o sbagliato che sia e poi vorremmo fare quattro puntate dai quei grillini specie siciliani campani e calabresi è stato detto non è che poi veniva percepito come il voto alla mafia e il voto all'antimafia ieri adesso attento a quello che dici no no attento a quello che dici attento a quello che dici non puoi associare i nomi Schifani alla mafia tra l'altro ricordo che c'è una richiesta di ingroia uno su questo terreno io sto dicendo il dibattito all'interno dei 5 stelle è stato messo così l'avranno messa male però comunque voi se andavate con un nome diverso qualunque nome diciamo di un senatore che ovviamente non c'era il fatto di votare schifani vorrà dire che alle prossime riunioni del gruppo che faremo ti inviteremo e ci darei qualche buon allora Marco Conti si canna a dare qualche suggerimento torno da Rosa Caligari che voleva dire questa cosa voglio dire innanzitutto che secondo me da quello che noi abbiamo capito anche dall'incontro che con loro abbiamo fatto che è stato il più breve di tutti in cui non c'era nessuna volontà di candidare uno dei loro ma in effetti secondo me l'abboccamento forte era nel tentativo di costruire nuovamente e questo devo dire stupiva molto da parte del del PDL un abboccamento coi Montiani cioè in effetti la vera candidatura era un'altra era quella di Monti e il PDL è un pezzo dei Montiani perché appunto anche lì c'è una piccola galassia stavano dialogando su questo la costruzione quindi di una candidatura Monti o di un'ipotetica nuova candidatura secondo me nasce alla fine sull'uscente semplicemente perché non si coagula intorno poi a Monti nella nostra posizione perché fin dall'inizio abbiamo detto chiaramente che non eravamo d'accordo per quanto riguardava un presidente di maggioranza così come lo chiedevano i Montiani votato dal PD e dal PDL noi avevamo tenuto uno spazio di condivisione di apertura ma questo non significava andare a fare l'accordicchio su questa candidatura alta come quella della presenza del Senato voglio rispondere poi a due cose perché qui la poesia di cui siamo stati attaccati insomma ebbè no io non credo che nessuno ha fatto poesia ieri Laura Boldrini non ha fatto poesia onorevole Cicchitto ricordando i morti nel Mediterraneo ricordando e qui c'è secondo me la connessione con la forte parola di Papa Francesco ricordando gli umili nella più alta diciamo istituzione di questo paese quegli umili di cui per tre anni e mezzo con i pacchetti sicurezza con i reati di clandestinità voi avete li avete chiamati solo emergenza e respingimenti senza distinzione senza distinzione questo è stato secondo lei poesia io non voglio lo dire io non lo direi ho una pubblicità quindi dopo la pubblicità però voleva dire qualche altro mi ridò la parola perché allora dopo la pubblicità sentiamo la parte conclusiva del discorso di Norio Calipari e poi le repliche allora torniamo da Rosa Calipari che voleva terminare il suo intervento sì no io volevo dire che mi ha colpito molto il fatto che parlare di sistema valoriale di persone che la loro vita l'hanno spesa per diciamo costruire situazioni di legalità e di democrazia in questo paese vengano poi definiti poetici dall'onorevole per me non è poesia non è poesia neanche il riferimento alla costituzione ai padri costituenti e al fascismo che era stato appunto a quello che erano morti per far cadere il fascismo punto che a me ha sconvolto perché a quel punto mentre l'aula si è alzata nel suo complesso il PDL non si alza e non credo che loro non avete neanche applaudito non credo che neanche quello sia un punto di non condivisione siamo nati da questa Repubblica ho capito non me lo deve spiegare lei no certo però proprio per questo motivo diciamo che mi ha stupito questo atteggiamento molto stupito detto questo ieri si è parlato ancora in quell'aula in quel discorso che era secondo me molto alto e che voleva far diciamo condividere a tutti dei punti di valore che io non definirei come ha detto non avevo il cicchitto né poetici né altro si è fatto riferimento alla povertà si è fatto riferimento alla crisi economica si fa riferimento e quindi niente poesia alla cassa integrazione di maggio si fa riferimento al 30 aprile con il documento economico e finanziario quindi io penso che fare riferimento a tutto questo c'è molto chiaro c'è molto chiaro questo non sia fare poesia significa semplicemente connettere la politica e quindi coloro che questa politica vivono con passione impegno e determinazione con il paese questo è stato il discorso secondo me ieri dei due presidenti delle canne che non solo io quindi ritrovo né retorico né poetico ma che secondo me ha fatto bene anche agli italiani perché hanno guardato le istituzioni con più fiducia forse dell'altro ieri anche se voglio dire diciamo una delle critiche più o meno velate è che certo erano discorsi istituzionali di insediamento eccetera insomma la crisi economica che sta mordendo questo paese ci fosse un po' poco in questi due discorsi voglio dire fermo le stand salvaguardando come dire le esperienze trascorse il curriculum di entrambi i nuovi presidenti ecco forse ci voleva dei riferimenti più forti su quello che è l'economia reale credo che questa sia poi una delle critiche delle persone di Cicchitto io penso che fare un discorso di legalità partendo da idee come corruzione evasione eccetera non sia un discorso che sia lontano dalla crisi economica e dal recupero di risorse che possono essere utilizzate e investite per per esempio dare più lavoro per incentivare il lavoro dei giovani per far riprendere imprese o dare incentivi alle imprese cioè non mi sembra così slegato mi sembra semplicemente che si siano voluti ecco questo io lo trovo un po' triste e questo mi sembra vecchio questo mi sembra vecchio il volere a tutti i costi di svilire sminuire due figure due personalità che sono simboli positivi di un'Italia buona allora io credo che mai come in questo momento e anche questo le voglio dire a me c'è bisogno che questo paese recuperi anche la speranza di poter ricostruire anche sul piano più complessivo un'Italia che in questi anni piano piano ha perso il senso della propria qualità i valori non sono una cosa irrilevante sono una cosa che si accompagna alla vita politica e alla vita dei cittadini allora la ringrazio della lezione però le voglio dire che non è che voi siete buoni e noi siamo i cattivi ha detto questo e voglio dirle allora che il discorso della Boldrini era singolarmente unilaterale perché non si misurava con una crisi finanziaria internazionale complessiva e ne vedeva soltanto gli effetti quando si parla dei migranti degli emarginati e così via ci si deve misurare anche col fondamentalismo islamico e col terrorismo islamico che ha complicato le cose ci si deve misurare anche col fatto che noi siamo stati lasciati dall'Europa soli a misurarci col problema dell'immigrazione e così via senza che nessuno ci aiutasse mentre venivamo bombardati anche da lei da giudizi negativi solo sul nostro paese non si è misurata lei la Boldrini la neopresidente quindi una analisi singolarmente unilaterale poi se uno parla del fascismo di quest'altro allora scisso da un discorso organico perché non ti sei alzato in piedi o così via ma noi non è che siamo i burattini per cui su ogni cosa che è buona dovevamo alzarci in piedi era il discorso complessivo che a me non è piaciuto perché era un discorso di singolare demagogia poi è evidente che si possono avere su questo pareri diversi ma io rivendico la legittimità di poter avere un parere diverso e anche questa pretesa per cui Grasso che io rispetto profondamente e la Boldrini con cui ho dei dissenzi radicali siano il buono e chi non è d'accordo con questa o con quella loro espressione e il cattivo francamente rientra in una interpretazione manichea della vita politica che non è quella del nuovo e del vecchio ma che ha altre categorie voglio anche aggiungere che noi per quello che riguarda le cariche istituzionali abbiamo detto due cose abbiamo detto che noi non eravamo aperti a qualunque soluzione che fosse pluralistica per quello che riguarda Camera e Senato e quindi mentre invece voi poi avete dato la soluzione al di là della poesia poi di una prosa molto reale avete occupato tutte e due le cose e che ritenevamo ancora una esigenza maggiore che ci sia un presidente della Repubblica di garanzia perché in una situazione nella quale ci stanno tre blocchi tre schieramenti politici ebbene che un solo schieramento prenda in mano la Camera il Senato e la Presidenza della Repubblica è una cosa assolutamente inaccettabile una forzatura e un vulnus alla dialettica e allo Stato di diritto e ai rapporti ma voi lo temete che possa succedere questo? Mi sembra che vedendo quello che è successo sulla Camera e sul Senato è molto possibile che avvenga una cosa del genere solo che c'è un piccolo problema e il piccolo problema è rappresentato dal fatto che imboccando questa strada è chiaro che non si risponde a quella che secondo me è un'esigenza che il Paese ha il Paese ha l'esigenza avrebbe l'esigenza di avere un governo che si misuri con le riforme istituzionali e la riforma stessa della legge elettorale e con drammatiche questioni economiche e sociali e quindi anche con una soluzione equilibrata il PD sta scartando questo vediamo che lo ha scartato anche nel modo con cui ha risolto il problema dell'elezione del Presidente della Camera e del Senato solo che mi sembra molto difficile che questa impostazione porti alla formazione di un qualunque governo chiedo ancora del futuro inquilino del Colle un eventuale anche se lui la smentisce e riconferma di Napolitano sarebbe quella garanzia che voi chiedete o no? Guardi la nostra valutazione su Napolitano è assolutamente positiva è che avendolo incontrato qualche giorno fa ho sentito da lui delle valutazioni sincere per quello che riguarda cosa farete nel caso invece succedesse che anche il nuovo inquilino del Quirinale fosse del colore che a voi non piace cioè che cosa mettete in campo? Mettiamo in campo che noi non voteremo nessun governo Bersani e mi sembra che non ci stanno secondo me neanche i termini per cui Bersani possesse dato l'incarico anche da questo stesso risultato e anche dal fatto che ha eletto il Presidente della Camera e del Senato perché è diverso il discorso del governo cioè paradossalmente forse questo l'hai robustito nei confronti del partito ma l'hai indebolito come futuro mandato è perfetta questa sua valutazione lo chiedo a Marco Conti che è un esperto su una cosa si trovano d'accordo con Bersani nel senso che neanche Bersani si è capito dal martedì dopo voto cioè su un punto è stato chiaro nessun accordo con il PDL col PDL di Berlusconi col PDL di Berlusconi che questo è il problema è come se noi dicessimo col PDL di Bersani certo però vabbè adesso non so qualche modo avete anche detto però no io volevo è chiaro è chiaro mi sembra che in effetti dopo ieri abbiamo detto ad inizio trasmissione Bersani un pochettino di più anche non avevo ricettito della riconoscere è più forte quella strada strettissima eccetera legge di qualche millimetro forse si è allargata io penso sia difficile che comunque a Bersani non venga dato un incarico specie dopo ieri specie dopo una cosa che appunto per quello che ricordavo anche prima che con il fiato sul collo che ha il PD ma non solo e lo diceva il professore prima sì Panarali esatto i partiti cioè il fiato sul collo dei grillini o meglio di questa cultura che ha spinto ovviamente è tutto ciò che viene fatto nel palazzo deve essere fatto perché ci sia una lettura esterna fuori ora io poi si ricollega tutto quanto ma il fatto di Grasso probabilmente non è nato un nome nato all'ultimo momento come forse più quello della Boldrini Grasso è degli otto punti famosi che Bersani ha presentato è l'unico che ha presentato il suo punto quello sull'anticorruzione ma potrebbe ricevere l'incarico da Napolitano no no volevo dire non lo so non lo so non penso essere questo il signor di Bersani perché si parte sempre da lì perché forse anche noi parlo come Giovanizi facciamo sempre anche noi dobbiamo cambiare paradigmi esatto dei riflessi condizionati ora Grasso è l'unico che ha presentato il suo punto degli otto l'ha presentato con Bersani e è andato in giro e penso che lì ci sia stato un lavoro e continui questo lavoro del partito che peraltro mi sembra che oggi stesso Bersani farà in Alta Italia alla Brescia esatto perché qual è il discorso di andare nell'elettorato potenzialmente grillino per tirargli le contraddizioni che poi possono esplodere nell'aula costruirle dal basso ecco una costruzione dal basso piuttosto che soltanto fatta dall'alto questo è quello che è avvenuto dopodiché io mi chiedo all'onorevole Caliperi come diciamo quanto effettivamente questo passo indietro diciamo della chiamiamola nomenclatura forse è un termine ingiusto però insomma di del partito che l'altro giorno dovuto dire no uno alla Camera uno al Senato probabilmente dovranno fare un altro passo indietro per formare un governo che staranno se il meccanismo di selezione un governo di super perché se il meccanismo di selezione dei presidenti quelle sono state quelle figure è facile immaginare che Bersani intenda replicarlo nella formazione del governo non è che pensa di rinfilare nel governo un risarcimento non potrebbe farlo o un risarcimento di quelli esclusi o la picchia o D'Alema esatto ragionando con i vecchi schemi allora questa roba qua però effettivamente siccome per scendere come dice non è scritto che è proprio questo scontro tra poesia e prosa nel senso alla prosa poi occorrerà anche vedere quanto ammesso che questo avvenga ammesso che questo nasca quanto in Parlamento questo governo alla fine i cosiddetti big penseranno vabbè un passo indietro un altro passo indietro un altro passo indietro perché ci sono nel partito democratico aspirazioni no? ci sono di governo di Quirinale e di altre cose quindi questo continuo arretramento anche perché il partito all'interno nella distribuzione l'abbiamo visto nella riunione delle direzioni è rimasto al 2008 2009 insomma un po' congresso esatto quindi è un schema abbastanza abbastanza non c'è dubbio che ieri Bersani oltre ad aver dato diciamo un colpo a loro ai gridini eccetera l'ha dato anche al proprio interno perché ha detto insomma chiaramente che non è che Cerverenzi per fare un rinnovamento ha dimostrato che lo può fare pure lui mi fate chiedere una cosa all'onorevole Caliber posso rispondergli sul rinnovamento soltanto per ora è una battuta sono una battuta secondo me Bersani non è che l'ha dimostrato ieri che ha rinnovato cioè il nostro i nostri due gruppi parlamentari io da quando sono rientrata diciamo in aula ieri mi sono resa conto di conoscere forse 20 persone del mio gruppo parlamentare si racconta che i giornalisti il primo giorno pensavano che molti giovani fossero grillini invece erano del partito democratico e siamo tra l'altro anche del prego di maggioranza e siamo quasi quasi noi più giovani rispetto addirittura a Cisotelle quindi voglio che il primo momento l'ha già dimostrato l'idea della presidente Moldrini e di Grasso e di Bersani l'idea dei due candidati e di Bersani l'idea dei due candidati io ho sentito che molti se la sono intestata ecco ecco io personalmente ritengo che le decisioni siano state prese da Bersani mi dici un'altra cosa ma è possibile comunque posso dirle una cosa anche questa perché secondo me lo devo io sono stato il suo vicepresidente del gruppo quindi lo devo a Dario Franceschini la cui secondo me personalità e la cui capacità per esempio di assolvere quel ruolo erano assolutamente indiscusse e anche ieri lo ha dimostrato perché il discorso che ha fatto l'assemblea del gruppo è stato un discorso alto di fare un passo indietro e finalmente anche questo infatti c'è stato un applauso una emozione e commozione dell'intero gruppo compreso Bersani che si è molto commosso devo dire e tutto questo è stato vissuto l'onorevole Cicchieto mi dirà con poesia ma sì l'onorevole Cicchieto è molto crociano ma l'emozione e la commozione raccontarlo anche ai cittadini che esiste anche in politica cioè non siamo solo i cinici freddi e tattici che ragioniamo sui numeri guardi che io quando dicevo di poesia e di prosa mi riferivo ad altre robe capisco io sto parlando infatti di cassa integrazione quando ho parlato di prosa capisco perfettamente la tensione che può esserci stata nel gruppo MPD quindi quindi non facciamo non passiamo dalla poesia alla demagogia se Bersani viene incaricato e se farà un tentativo poi vedremo come andrà a finire crede diciamo a quello che diceva Conti cioè super tecnici con buona pace di tanti del partito io credo no no io parlo di scenari in questo sono d'accordo con l'onorevole Cicchieto io andrei come dice Bersani che è un pragmatico il cui pragmatismo ormai conosciamo credo tutti facciamo passo per volta il metodo utilizzato finora credo che andrà perseguito ancora non tutto è stato concluso noi abbiamo ancora votazioni dobbiamo concludere ancora gli uffici di presidenza che non sono irrilevanti non sono irrilevanti affatto mi pare anche i presidenti di commissioni parlamentari di garanzia vabbè insomma ci sono molte cose normalmente però senta ma se i prossimi vanno all'opposizione quella di garanzia sono sempre state voglio dire se sta parlando del Copazir oppure se sta eh o della commissione di rigianza per la rai bisogna capire chi è l'opposizione bisogna capire bisogna capire chi è il governo e chi è l'opposizione però non è calipoli siete solo voi gli altri ce li hanno già finito di dentro quindi è complessa no 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 non semplifichi così non ho detto questo non ho detto questo ho diciamo ho molta curiosità e non sono come dire una che demonizza i 5 stelle questo sì cioè ho molto interesse e molta curiosità nei loro confronti ma so benissimo di trovarmi di fronte a un gruppo eterogeneo che mi sarà conosce comunque per quello che riguarda il futuro del Parlamento e delle commissioni parlamentari ci troviamo in una situazione nella quale non si sa ancora chi è maggioranza e chi è opposizione aggiungo anche lo dico rispetto ad alcune suggestioni che stanno girando che non è che si può pensare che il Parlamento lavora a tempo pieno senza che ci sia un governo di riferimento quindi bisognerà fare un governo i gremini lo pensano non lo lasciamo molti e intanto il Parlamento insieme al professor Ceccanti contesto alla radice questa cosa comunque quindi bisognerà fare un governo in ipotesi un governo una maggioranza e un'opposizione e a quel punto si sa anche come si distribuiscono sia le commissioni ordinarie sia le commissioni straordinarie perché altrimenti non c'è una una regola diciamo così di funzionamento secondo lei si andrà inevitabilmente di nuovo alle urne? ripeto dice che Berlusconi è già in campagna elettorale ripeto perché Berlusconi non ci sta in campagna elettorale anche con queste scelte scusi voglio dire la cosa è semplice ed elementare poi arrivando al dunque arrivando al dunque uno bisognerà vedere se il presidente della Repubblica dà un incarico esplorativo a persona che sta fuori dello scontro oppure dà un incarico io contesto che ci siano le condizioni per l'incarico a Bersani però è una partita da vedere e dopodiché c'è il dato elementare che alla Camera ci stanno certi rapporti di forza ma al Senato ce ne stanno altri e da vedere in sostanza sulla base sto ragionando adesso sulla base dello schema che Bersani ha impostato se lui al Senato avrà dai grilli dal Movimento a 5 Stelle un appoggio politico con la fiducia che è una cosa impegna e stando alle dichiarazioni del Movimento 5 Stelle questo dovrebbe non avvenire questo è lo stato dell'amministra voglio sapere il contesto è complicato adesso al di là delle presidenze delle Camere bisogna proprio abituarsi a pensarla diversamente per esempio adesso mi faceva riferimento Cittito alcuni crimini mi pare il neo capogruppo dei senatori di 5 Stelle ha detto Parlamento lavori il governo c'è monti per adesso per gli affari correnti andiamo avanti peraltro c'è un altro elemento credo che se si andasse a votare a giugno o in ottobre ma anche in ottobre credo che di rifare la legge elettorale non ci sarebbero i tempi nonostante le buone intenzioni o no? Sì assolutamente è un contesto davvero molto complicato diciamo un po' c'è anche il più complicato possibile il più complicato possibile e l'onorevole Cicchito che era molto crociano nei suoi riferimenti alla poesia alla prosa lo diceva giustamente in realtà da un certo punto di vista c'è un problema naturalmente di lessico e di galateo istituzionale nel senso che noi siamo una democrazia liberale rappresentativa con una serie di caratteristiche di regolamenti con una serie di norme alla base che prevedono per l'appunto che un Parlamento lavori fortunatamente in presenza di un governo quindi diciamo una parte di queste suggestioni probabilmente rispondono al fatto che davvero il Movimento 5 Stelle è un enorme magma all'interno del quale alcuni non hanno ben presente le caratteristiche e le strutture di una democrazia rappresentativa anzi alcuni la rifiutano proprio quello che è vero però e mi permetto davvero significativamente la società italiana e cambiando da molto tempo la società italiana non può essere che la politica non risenta di questi cambiamenti una cosa che constatiamo è al di là dell'affezione dell'attaccamento che si può avere per la forma partito che il Movimento 5 Stelle ha messo in crisi l'idea stessa della forma partito ma non soltanto e non semplicemente con il gruppo di persone che ha eletto ma perché una parte della società italiana per alcuni versi ha ragione per altri ha torto identifica nei partiti in quanto tali uno strumento di tutela della casta sappiamo che non è così ma non c'è dubbio che questa è un pezzo della filosofia diciamo che viene respirata e che viene vissuta e quando come ricordava giustamente lei all'inizio citando Gramellini si parla di un effetto francesco sulle camere naturalmente come diceva Marco Conti il sacro e il profano vanno tutti rigorosamente separati e distinti ma questo è quello che accade nella società questi sono i sentimenti le espressioni le vocazioni che si sentono nella società italiana e con questo dobbiamo fare i conti sarà molto interessante anche da questo punto di vista senza esagerare in categorie epocali osservare l'evoluzione e diciamo il clash cioè lo scontro incontro tra le istituzioni e il Movimento 5 Stelle perché quello è un caso in cui dalla forma partito a cui siamo abituati da un paio di secoli o da un secolo e mezzo almeno passiamo a una sorta di partito informe vedere quella forma organizzativa sarà molto interessante per capire anche l'evoluzione della nostra politica naturalmente anche all'insegna di come dire di ritorni di cicli che si chiudono perché come alcuni osservatori hanno giustamente sottolineato questa presenza incombente dei grillini che si ridislocano e che dal punto di vista della geopolitica parlamentare sarà ancora una volta interessante capire in quale posizione si inseriscano è piena di un'altra suggestione quella dei montagnardi della rivoluzione francese non sappiamo quanto ne siano consapevoli ma come sapete in una convenzione occupata dai rappresentanti del popolo anzi dai cittadini per l'appunto di Mara e di Robespierre i montagnardi si collocarono trasversalmente nella parte più alta dell'emiciclo espresso dalla rivoluzione francese allora tutto questo è interessante quello che stiamo osservando e dobbiamo cercare di affinare le nostre categorie come osservatori come giornalisti è che in questo momento c'è un'accelerazione continua talmente continua che dobbiamo davvero monitorare costantemente per capire e riadattare un po' le nostre categorie senta con buona pace lo dico simpaticamente se il PBL al Senato avesse scelto un altro candidato che non fosse Schifani la partita sarebbe stata diversa cioè se avesse interpretato di più usando lo spirito dei tempi cosa che magari Bersani con queste due candidature ha dimostrato questo lo sa davvero solamente l'onorevole Cicchito mi permette solamente una cosa la domanda vera è che cosa sarebbe successo se noi non avessimo presentato un candidato rispondiamo anche su questa domanda ecco questo ha davvero a che fare con la dialettica parlamentare con la capacità di aggregare maggioranze o minoranze io credo che il PBL abbia interpretato lo spirito dei tempi della società italiana in una fase molto lunga oggi quella spinta propulsiva si è esaurita in termini di capacità di innovazione naturalmente discutibile oppure no certo sono presenti sono presenti in campo sono ancora forti ma interpretano molto meno lo spirito dei tempi io credo che questo sia il termine per usare un termine da noi tutti conosciuti che ha un'origine gramsciana per un pezzo della storia italiana recente il PBL ha fatto l'egemonia oggi non è esattamente più così e io credo che quello che accada sia anche espressione di questo naturalmente non c'è una nuova egemonia culturale però sono cambiati per l'appunto la loro capacità di interpretare la società italiana che è meno forte e meno fresca visto che lui ha evocato la rivoluzione francese però allora me lo dica dopo la pubblicità non la voglio l'intero dopo la pubblicità allora torno dall'onoreo Cicchitto perché poi devo andare da Ingrado per parlare un altro po' del Papa l'abbiamo trascurato no era una battuta soltanto per dire che lo schema della rivoluzione francese diciamo così aveva presente il dato che tagli la testa al re e fai un'assemblea che ha poteri totali ma noi non stiamo in questo tipo di situazione non dobbiamo tagliare la testa a nessun re e abbiamo un assetto costituzionale che secondo me rimane valido nel rapporto governo istituzioni parlamentari un'ultima battuta che direte mercoledì insomma al capo dello Stato adesso durante le consultazioni ma diremo al capo dello Stato quello che ho detto uno un presidente della Repubblica di garanzia e due se si risolve questo problema un governo diciamo così bilanciato che affronta i due nodi ma evidentemente questo implica uno schema politico totalmente diverso da quello di cui è portatore per sé Ignazio Ingrao allora ieri dicevo l'incontro con i giornalisti oggi mi pare c'è il primo atteso Angelus poi martedì l'intronizzazione come si dice con mi pare attese un milione di pellegrini a Roma sabato prossimo l'incontro col Papa Emerito che sarà un altro momento molto importante saranno a pranzo insieme e discuteranno di tante cose benedito questa immagine del Papa uscente per la cattolicità e i due papi contemporaneamente anche se su questo mi sembra che Francesco abbia chiarito molto gli aspetti ma discuteranno e discuteranno forse noi lo chiamo Francesco non Papa Francesco no non Papa Francesco va bene segno dei tempi segno dei tempi e in questo anche il fatto che lui discuteranno anche del rapporto che i cardinali sulla curia che Benedetto aveva c'è area di repulisti nella curia ma senza meno senza dubbio area di repulisti ma anche e qui vengo un po' al lessico della politica di riavvicinare la chiesa alla gente perché poi qual è stato l'effetto vero dell'eterio degli scandali delle questioni dei giochi e dei veleni e che poi si è allargato il fossato tra credenti e non credenti e la chiesa questa è la prima operazione che Bergoglio vuole fare che è più urgente ancora di quello di tagliare le teste di quelli che si sono un po' compromessi con la vicenda di Vatilix anche il senso della sua azione di trasparenza perché ieri nell'incontro con i giornalisti ci ha raccontato come è andato il conclave come ha preso gli ultimi voti come ha scelto il suo nome una cosa assolutamente inedita che non è diciamo un grillismo di maniera è proprio un programma un programma di lavoro in questo senso ancora non twitter ma poco ci manca c'è la diretta streaming e ieri per esempio quali sono tra le cose che ha detto oggi i giornali ovviamente riportano le frasi più forti ma c'è qualcosa che l'ha colpito in particolare ma certamente ha svelato il suo rapporto con il cardinale Umes che è brasiliano che lo ha aiutato molto in questa diciamo in questa fase in questa situazione ha spiegato ha spiegato il senso della scelta del suo nome che riguarda la povertà ma riguarda anche l'attenzione alle guerre e riguarda il rispetto e la tutela del creato quindi tre elementi e poi ha detto ci sono tre linee guida verità bontà bellezza che devono andare insieme io lavorerò su questi tre punti che probabilmente poi riporterà nella sua omelia della messa di intronizzazione che è un po' il discorso allo Stato dell'Unione quello che fa il Presidente degli Stati Uniti in una maniera laica e nell'Angelo Lusso di oggi cosa si aspetta dall'Angelo Lusso di oggi visto che è la prima grande uscita ma io anche lì mi aspetto diciamo una comunicazione diretta molto forte con la gente di nuovo il discorso della Chiesa povera ma anche del ruolo del popolo di Dio in questo è profondamente conciliare cioè la Chiesa è il popolo di Dio non è il Papa e la gerarchia e quindi è il popolo di Dio che ritorna che ritorna al centro senta lei aveva scritto insomma da poco il concilio segreto misteri intrighi e giochi di potere dell'evento che ha chiamato il volto della Chiesa per PM eccola la copertina le chiedo lui dovrà gestire anche questo come si diceva una volta dossier scottante segreto sul Vatilix no? si che per la prima volta gli consente di avere comunque la mappa della curia e quindi anche un po' di quelle che sono state ahimè ricordate i rapporti interni poi la vorrà e la dovrà snellire snellire e poi anche razionalizzare il tema finanze il tema finanze non è solamente IOR cioè è una realtà è un arcipelago è un arcipelago anche di realtà finanziarie interne alla Santa Sede che va riorganizzato snellito quando lui parla di Chiesa Povera pensa anche a questo capitolo che insomma è un capitolo adesso non abbiamo il tempo ma insomma è un capitolo estremamente complesso scoprirete di che pasta è fatto questo Papa perché comunque lui ha dimostrato nel governo sia come provinciale dei Gesuiti sia nel governo della diocesi di Buenos Aires un polso molto fermo quindi vuole vedere tutto vuole conoscere vuole conoscere tutto non ha paura di contrapporsi alla politica perché con la Kirchner con la presidente dell'Argentina ha avuto uno scontro durissimo tant'è che si dice che la Kirchner subito dopo le elezioni abbia detto ma peggio di così non poteva andare e quindi sui temi sui temi etici non ha avuto timore di sfidare il governo argentino e potrebbe farlo anche nel nostro paese per diciamo fare una battuta incontrerebbe più volentieri Berlusconi o Bersagno Grillo questo Papa secondo lei ma io credo che ma tutto sommato forse per l'attenzione che ha a quello che accade diciamo nella realtà concreta forse incontrerebbe più volentieri Grillo io lo pensavo io vorrei far concludere così facciamo par condicio tra i nostri parlamentari presenti Amasinano Panarari secondo lei se sempre se con scenari eccetera il il primo mandato non andasse a Bersani come molti ovviamente anche legittimamente pensano il Capo dello Stato dal cilindro che soluzione potrebbe trovare che cosa voglio dire stando allo spirito dei tempi e stando alle tre minoranze che ci sono post voto si fanno i nomi ovviamente ai governatori di Banca Italia diciamo figure classiche di grande esperienza e solidità collaudata ma ci potrebbe essere invece stando allo spirito dei tempi invece una soluzione a sorpresa io credo che lo spirito dei tempi possa essere interpretato e declinato a seconda delle caratteristiche delle figure nel caso del presidente napolitano che figura di grande saggezza istituzionale lo spirito dei tempi credo che andrebbe nella direzione della garanzia della solidità proprio perché le bocce sono così in movimento e quindi la soluzione Banca d'Italia che ricordava è quella che è in grado di tutelarci maggiormente rispetto ad un contesto o ad uno scenario internazionale no perché credine hanno detto se ci fosse una personalità della società civile molto importante molto forte poi ci sono usciti anche dei nomi potremmo anche pensarci io credo che la saggezza istituzionale ha a che fare con quello che gli americani chiamano i checks and balances però proprio che parlate del spirito dei tempi eccetera cioè il tecnico è finito il tecnico l'abbiamo visto è finito è stato bocciato anche sia nei partiti che lo sostenevano anche lui personalmente dalle urne non da il sistema da grillo perché poi non dice niente Banca Italia insomma questo è stato il tecnico però appunto checks and balance in una forma una cosa e monti un'altra no no sì certo però è un fatto di emergenza emergenziale non un fatto politico che può nascere se posso ridire una battuta la cosa che diceva Marco Conti è molto vera ma il presidente Napolitano in termini di contrapesi di equilibrio al grande movimento che si verifica nelle camere chiamiamo così potrebbe mettere come equilibrio un tecnico un tecnico appunto non come spirito dei tempi ma come Banca d'Italia e garanzia rispetto all'Europa e ai mercati allora lo scopriremo solo vivendo grazie ai nostri ospiti adesso c'è Coffee Break noi ci vediamo poi fra sette giorni domani c'è Alessandra Sardoni grazie